Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Life is Strange Negli scorsi episodi è successo davvero di tutto, siamo entrati nel vivo di questa storia Quindi mi raccomando per proseguire al meglio questa serie Tanti pollici in in su, adesso dobbiamo andare a scoprire infatti verso qua Da questa parte dovrei andare, perché dovrei andare nella camera di Nathan Per cercare degli indizi o qualcosa Nella scorsa puntata alla fine... Ehi 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 skaters, non mi investire Nella scorsa puntata Chloe addirittura ha fatto anche colpo su Mr. Jefferson Qua ci sono loro due che giocano, eccetera Ma noi possiamo assolutamente entrare, credo di qua No, non devo andare di qua, proprio là L'unica cosa che ho detto è sbagliata Perfetto, quindi era quello che un po' mi avevate detto ma... Sì, l'avevo rubato lo stesso ormai Vabbè, meglio aver aiutato Alyssa Quindi dobbiamo andare a scoprire qualcosa in più su Nathan Di qua non ci possiamo andare, vediamo se dobbiamo fare qualcosa con loro Perché stavate parlando di me? Perché mi devi far pesare tutto? Eventi recenti È giusto Oddio, spiegazione scientifica non ce l'ha Oltre la scienza Proviamo Io sono d'accordo con lei Anima di morti Ehm, oddio Tobanga Parliamo di Nathan Sono una cosa che mi interessa di più No, infatti, non siamo mai amici Ehm, compagni di studio, dai Eh, sono d'accordo Ok, quindi è uscito Era di pessimo umore Mi sa che dobbiamo uscire anche noi Parliamo anche di Kate 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 a questo punto Si, va bene No, grazie Ok Sì, vabbè Com'è possibile Non ho ness'idea È vero È vero, è vero Sono d'accordissimo Di Prescott Eh, però Hanno importanza Boom Proprio ha sganciato la bomba Ok, allora Perfetto Voglio vedere un attimo Se c'è qualcosa di Interessante Da fare qui con lui Sì, anche se non so Onestamente Se tu possa darmi delle risposte Proviamo a chiedergli degli animali Sono anche molto curioso appunto su questo Perché oltre al fatto Del Del tornare dietro nel tempo Di Nathan E di quello che succede All'interno della scuola Tutto il resto Compreso il tornado Che deve ancora arrivare Dì Do you think Do you think This is some kind of Ecco disaster Or I think it's more than that Somebody is Cousing all this Què will dire Do you think so, Samuel You and Arcadia Bay Arerif masters Connected by time and tide Volevo dire So段ay Come se a ti I'm coming to you Proviamo a parlare della gente Nathan, parliamo sempre di Nathan Non ti piace Nathan Che cosa ha fatto? Eh, dai, dimmi, dimmi, dimmi Cos'è questo avvertimento? Cos'è questo avvertimento? L'ultima domanda, poi andiamo Raga, lui è inquietantissimo Ok Allora, molto molto strano Ovviamente la professoressa parlava di più di scienza Piuttosto che di cose strane, mistiche Sono d'accordo con lei in parte Se fossi lì in quel momento Però dato che siamo comunque in una storia Molto molto particolare Può essere successo anche qualcos'altro Può essere che ci sia qualcos'altro dietro Anche perché Non l'hai vinguto nel tempo Rob, insomma Mentre Samuel era Molto più strano Ok, ninja mode attivata Entriamo nella blackwell Già sono passati un bel po' di minuti Da quando abbiamo iniziato questo episodio Sono molto contento comunque Che a voi piaccia Anche l'episodio lungo Di Life is Strange Perché giustamente Ho bisogno di fare molte cose Di parlare Allora, di solito c'è una mappa Di solito c'è una mappa Che è Da questa parte, perfetto Non la posso vedere Guarda Sì Perfetto Quindi non è nella Né nella 106 né nella 108 Va bene Che probabilmente sono queste 104 Non si può entrare 105 Skateboarding is a crime C'è qualcuno Qua ci sono i bagni 106 non era Vediamo Zach o Logan Who knows Bro's got a bro Vediamo se riusciamo a trovare Lavagna di Hayden Hayden Oh Skunkweed And video games Ok Poster Mi sa che è questa Ah no Ok 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 Eh Sì È quella di Warren Infatti Qua c'è Warren Ah ok Ah ok Ehm Va beh Ok abbiamo capito Perfetto Proviamo a entrare Non ci dovrebbe essere Non ci dovrebbe essere Perché l'hanno visto uscire Ma Ma Ah con le buone maniere Praticamente Si può fare di tutto Ragazzi io penso che qui ci sarà qualcosa di molto molto importante Cellulare o qualsiasi altra cosa Va bene Allora C'è Joyce che mi chiede Max Ora che David Non è più qui Ho bisogno di calcolosi Assumano le sue responsabilità E smetterla di comportarsi In quel modo Ma non succederà Se voi dovevi infilare Dele in guai legali Come entrare Nella blackwell di notte So quello che è successo Quindi non cercare di negare O spiegare Oddio Mi spiace Anche io Però sto cercando Di una stessa positiva Ok Vi ricordate che in uno degli scorsi episodi David ci ha detto appunto Di stare attente La notte Ecco il motivo Ok subito Leggiamolo Dov'è? 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 Messaggi Messaggi Kate Ehi Ehi Kate Non è che dovevo aspettare un attimo Vediamo adesso Kate Non mi dice niente Vabbè Intanto Guardo qua No Non questa No Esalta Stavo vedendo l'obiettivo Ok Vabbè era ovvio Medicina Eh no Proprio no Allora Computer sarà sicuramente molto interessante Quindi prima direi di guardare Ok Ok le istruzioni per una pistola Wow Nathan Nathan Tutti i film inquietanti Poster Di roba torturata Ci sembra di fare un show totalmente divertente Un po' tranquillo Un po' tranquillo Foto Uh c'è qualcosa sotto il letto Nathan Nathan Prescott All American Teen Vabbè Sì Cioè Mi sembra abbastanza scontato Eh guarda Damn Nathan That's a nice shot It's so damn creepy but Eh Il guy Has his own style Eh sì Eh sì Allora Libro Guarda I don't think one book Can guide the Prescott's Una guida per genitori fini Sulla gestione della rabbia Ma è cosa Eh lampada That must be the lamp Chloe broke When Nathan drugged her Uh è vero È vero Ce l'aveva raccontato Tanto tempo fa Whale songs Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears Ok ragazzi Questo ragazzo Dei disturbi That is so Chloe Ok dobbiamo parlare O dirò a tutti Quello che hai fatto E la pagherai Figlio di puta Oddio C'era anche qualcos'altro Aspetta Aspetta C'era anche qualcos'altro Oh 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 my God Chloe Oh Chloe C'è qualcosa No non voglio assolutamente Uscire adesso E allora Vediamo adesso Le cose più importanti Computer Usiamo il computer Allora A Victoria Ciao bellissima Fammi sapere Cosa indosserai Così posso indossare Qualcosa altrettanto Costoso Alla moda Un sacco di sorprese Ho anche detto A mio padre Di tenere i suoi cani A guardia e a distanza Così possiamo sballarci Senza seccature Se deve essere Una festa a tema Fine del mondo Facciamo le cose Per bene No? Bastard Ora ricordo Perché ti E perché Kate Will get justice Che Ah Ci sono tutte C'è il video Di Kate Oh man Sean Prescott Might be Nathan's real problem Ok Da Sean Prescott Nate So che è stata una settimana Stressante Tua madre Io siamo sempre qui Se hai bisogno di parlare Prendi appuntamento Quando vuoi Ok Tua madre vuole che visiti Il dottor Bill Dopo il tour promozione Del suo libro Ok Ho bisogno che tu stia calmo E tranquillo Fino alla conclusione Dei lavori Del Pan Estates So che essere un Prescott Può essere un gran peso Ma ti guiderò passo passo Come mio padre E' stato difficile per me Quando mio padre Mi ha aperto gli occhi Sul nostro destino Ma un giorno Mi ringrazierai Non preoccuparti Della Blackwell E' ora di fare un clister A questa città di merda Voglio che tu sia Pro Ok Ok Va bene Diciamo che fai il riassunto Max Fai il riassunto Max Di quello che è Piuttosto che stare lì A leggere proprio tutto Un po' cinica lo è La nostra cara Max Non c'è però nient'altro Mi sembra un po' strano Che non ci sia nient'altro E vorrei Esatto Sì Io sarei bella Con avere questo Progettore Qui Guarda Onestamente Non credo che ci sia altro Esamina Ha spostato Ha spostato il divano Ha spostato il divano Sicuro Cosa c'è dietro il divano Sposta Sì Non è quello che stai scendendo Nice Oh sì Little phone Sei mine Oh Oh sì Stavo per andarmene ragazzi Stavo per andarmene Via 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 Let's go Allora Io oro questo Se torno indietro 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 Posso Fare qualcosa Volevo Volevo tornare indietro Prima di aver Appunto Distrutto Questa porta Vediamo Vediamo se ci riesco Se è una cosa utile o meno Tanto l'oggetto Già ce l'abbiamo Già queste cose Queste informazioni Le abbiamo ottenute Forse mi Mi fisso io troppo Su Su certi dettagli Però se torno indietro Magari non si accorge Che qualcuno È entrato in camera sua Chi lo sa Vedete Perfetto Non è entrato nessuno Perfetto ragazzi Perfetto Andiamo da Chloe Se fossi andato via Magari poteva succedere qualcosa Ma uscite Ma uscite Oh Io l'ho restituita Dai fermiamo Cioè Oddio Lo vorrei vedere Proprio picchiato Però fermiamolo Dai Non posso stare lì A guardare Warren Stoppia Come on Oh Oh Ma 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 Perché stai a me Come on È la pistola Wow, poteva continuare anche a picchiarlo in realtà, però dai, sono stato troppo... Mi avete detto che sono stato anche un po' cattivo ad esempio con Victoria E lui proprio ha dei problemi Ha dei problemi Warren, grazie a te molto Per cosa? Per headbuttare Nathan Prescott, era eccezionale Non lo so Non lo so Mi sono quasi freddo là Come Nathan Non sei nulla come lui Buono di sapere Quindi dove sei andato? Si, si dai, resta con noi, resta con noi Just in case you need me to get my Hulk on again Or should I call the cops on Nathan? No police, not yet So maybe you better Warren, me and Max have to do this on our own No offense It's cool No, dai What you can do is find out anything you can about Nathan's father I'm on it Between the snow and eclipse I'm assuming the apocalypse is around the corner And thank you Seriously I'll call you later You better I'm feeling pretty alpha now Yes You are Eh, speriamo che non gli succeda niente in realtà Il povero Warren Ma, il ragazzo è così f***o in love with you Lo so Il ragazzo è davvero davvero un serioso beatdown to Nathan E' stato un po' strano to watch him do that Ora, facciamo un date con Frank Will he even answer to you? Frank always answer when he wants money Ok, vero, perché gli dobbiamo restituire i soldi Frank wants to see me right now Let's not keep him waiting Ok, ok Vediamo adesso un pochettino che cosa succede E in caso poi ci salutiamo Perché già quello che è successo adesso E' qualcosa di epico Ok, nuova zona totalmente diversa Non ci siamo mai stati Non è nemmeno nel suo Nel suo camper No, nel suo camper c'è Solo che si è spostato E si è spostato vicino alle balene arenate Le balene spiaggiate Non so Allora, ci sono tanti pezzi di puzzle, secondo me Che dobbiamo unire Perché sicuramente ci entreranno tutti Ci entrerà Rachel Ci entrerà Frank Andere? Chloe, do no count on my rewind Serio Obviamente non i ne pack on ti That's why I have a gun Then I might even save you someday About time I am so going to hate you There's no way we could've guessed This is what would happen to us when we grow up Non creo to proprio I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland Fuck yeah You, me Ok, lei è un pochettino pensierosa, ha qualcosa magari in mente Non mi piace tantissimo però Stiamo a guardare ragazzi, stiamo a guardare Altra cosa che si è giunta alla festa a tema fine del mondo Il padre di Nathan che è pure qualcosa di strano Tutto strano ragazzi Comunque, comunque Finestra, vediamo se si sente già il cane È vero, c'è tutto oscurato Va bene, va bene Noi stiamo controllando un po' di roba qui Non credo che ci sia molto altro da fare Tavolo, spazzatura, giocola del cane Porta del camper Spazzatura Sì, l'ha gettata fuori dal camper Allora, ora mi chiederà sicuramente se siamo pronte per Per entrare Pompidou Che noi abbiamo salvato, meglio, non abbiamo ammazzato Bottiglie Speriamo non sia ubriaco in questo momento Comunque ragazzi, allora, direi che l'ultima cosa che faccio è guardare È vero Quando abbiamo fatto la passeggiata con lei Con lei, lì, cioè Nella, nella sedia Posso fare anche una foto Facciamo una foto alle balene Noia, quanto sono grandi E quanto sono inquietanti A vederle in questo stato Potenza di ottica Si sembra così brutta Ma È ancora così majestica Già, esatto Va bene, allora ragazzi Ragazzi, ragazzi, ragazzi Io sto vedendo un pochettino tutto Poi non è la spiaggia Però mi sembra abbastanza sgompio Ok, niente di che Perfetto, ragazzi Allora Io direi di salutarci per oggi Visto che abbiamo fatto una cosa importantissima Ovvero entrare nella stanza di Nathan E Abbiamo scoperto Un bel po' di roba A parte la sua pazzia Confermata da tutto quello che Era appunto all'interno della sua stanza E poi il cellulare Ancora non sappiamo molto appunto del cellulare Io l'avrei visto prima di andare qua Da Frank Sicuramente avrei visto almeno qualcosa C'era anche qualcos'altro in quel sacchetto Speriamo che sia importante ai fini della nostra indagine Io direi che per adesso ci possiamo salutare E darci appuntamento al prossimo episodio Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Attivate la campanina Sociali in descrizione E al prossimo appuntamento qui su Life is Strange Io vi aspetto Non mancate Ciao belli